Ehi, Isabella! Ho scoperto un modo fantastico per affrontare problemi di privacy e accesso online. Ha completamente cambiato la situazione per me. Sembra intrigante, Marco. Racconta. Vedi, con tutte queste preoccupazioni sulla privacy e le limitazioni online di questi giorni, sta diventando sempre più difficile accedere a risorse e strumenti preziosi. Solo recentemente, l'Italia ha vietato l'uso di chat GPT. È un vero peccato perché è uno strumento incredibile. Ne ho sentito parlare. È così frustrante. Cosa possiamo fare al riguardo? Immagina questo, Isabella. E se ci fosse un modo per aggirare queste restrizioni e proteggere contemporaneamente la tua privacy? Aprirebbe un intero nuovo mondo di possibilità, giusto? Assolutamente. Ma, è davvero possibile? Che tu ci creda o no, c'è un modo. Ho trovato qualcosa che fa esattamente questo. Non solo ti aiuta ad accedere a risorse preziose, ma mantiene anche le tue attività online private e sicure. È incredibile. Sembra esattamente ciò di cui ho bisogno. Per scoprire questa soluzione rivoluzionaria, tutto ciò che devi fare è cliccare sul link nella descrizione di questo video. Credimi, non rimarrai deluso. Hai stuzzicato la mia curiosità, Marco. Cliccherò sul link immediatamente. Grazie per aver condiviso. Grazie per aver guardato il video.